Come dici tu, è importantissimo, come capisci non so, può succedere proprio a un 50% di un gioco domani, anche se è male, te lo dico subito, non si capisce. L'ordine dei giocatori comunque per me fanno importanti, verazzi, il combo, proprio per capire l'altra, è comunque un fascinatore, proprio, e si creano proprio quegli alfini in maniera anche... Magari se un giocatore si sente meno importante, scoperto che un fagno, cambia che un gioco in lì non mi devo fare questo infante, io devo andare a lavorare sul ventesimo, andrò andare a lavorare sul ventesimo, io devo stimolare il ventesimo, perché secondo me, in una direzione come loro per il ventesimo, il ventesimo, non mi importa la vittoria, ma io devo andare bravo. Se hai la possibilità di fare una preparazione, io la farei comunque di 15 giorni, non consecutivi, farei 5 giorni, stacco di uno, 5 giorni, no, una cosa del genere devi fare, i classici 20 giorni per fare due volte al giorno, per accumulare tutto e di più della preparazione, oggi non ha più senso. Grazie. Grazie. Grazie.